Nel giorno di San Rocco, oggi a Roccamontepiano, la Santa Messa è stata celebrata dall'Arcivescovo Bruno Forte e anche quest'anno, Reteotto ha trasmesso in diretta a partire dalle 10.30 questo evento religioso, la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo della Diocesi di Chietivasto, Bruno Forte, è stata celebrata insieme al parroco e il padre Giulio Capetola. Ovviamente per accedere al santuario di San Rocco, attualmente è obbligatorio alla mascherina, bisogna anche mantenere il distanziamento, pertanto chi non ha potuto essere presente alla funzione religiosa ha avuto comunque l'opportunità di seguirla in diretta su Reteotto e anche sulla nostra pagina Facebook. Il sindaco di Roccamontepiano, Adamo Carulli, ieri nella presentazione di queste celebrazioni aveva sottolineato, oltre alla solennità della tradizione, anche il grande valore simbolico di vicinanza ai padri di San Francesco Caraccio e al Comitato, che hanno organizzato uno degli appuntamenti della fede più partecipati in Abruzzo.